E' ormai diventata una delle ambasciatrici del Salento nel mondo e non perde occasione per ribadire l'amore per questa terra. Parliamo dell'attrice inglese Ellen Meere impremiata a Lecce. Nanno Nunziante. Buonasera a tutti. E scusami italiano, in cinque anni era molto migliore, ma adesso come così. La regina oggi si definisce una contadina salentina e da cinque anni ha trovato il suo Buckingham Palace in una masseria fra gli olivi. Curioso destino quello di Helen Mirren, dichiaratamente antimonarchica ma vincitrice di un Oscar per aver interpretato Elisabetta II in The Queen e di un Emmy per la serie tv su Elisabetta I. Per lei nel rettorato dell'Università del Salento un sigillo che profuma della sua nuova vita, il premio Apollonio. Questa è una comunità straordinaria, una terra straordinaria, un'università splendida, è un grande onore per me, ma è un onore ancora più grande essere accettata dalla gente di questa meravigliosa parte d'Italia. È un amante del vino, immagino che gli piace il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature, dobbiamo essere noi bravi a fargli lo piacere anche di più. Il fatto che abbia poi eletto questa terra a sua seconda patria è un po' una corrispondenza che fa onore a tutte e due, si rimbalzano a questo piacere reciproco e a questo onore reciproco. Galeotto fu il set di Sole a mezzanotte. Helen Mirren vive in una masseria salentina con suo marito Taylor Hackford, regista fra l'alto di Ufficiale Gentiluomo e L'Avvocato del Diavolo. Fra gli ulivi secolari, un patrimonio non solo naturale per cui bisogna unire tutti gli sforzi. Per combattere quella che oggi è una specie di guerra, il mio messaggio è quello di non accusare, non fare gossip, non puntare il dito. Lavoriamo insieme a una soluzione perché questa situazione può essere risolta solo se siamo una comunità.